Riassunto delle puntate precedenti Nel giugno del 1972 Fulvio Magliacani scompare. Il suo cadavere viene trovato un anno e mezzo dopo vicino a un fiume grazie alla testimonianza di Tarcisio Pan, che in una registrazione dice anche che il socio in affari del fratello, Giovanni Lacchioma, è stato ucciso in Francia. Ma è grazie alla collaborazione del cugino della seconda vittima, Germano, detenuto in Provenza che trovano il cadavere di Giovanni e il collegamento tra i due omicidi. Non fare scene, non fare teatro come al solito. Ormai nessuno ti crede più. Se continui a dire sciocchezze finirai col fare condannare anche me, che non c'entro. Racconta al giudice come quella sera sei venuta all'albergo dove alloggiavo. Erano le 2.30, me ne ricordo benissimo. Eri sconvolta. Hai appena avuto la forza di mormorare, aiutami. Mio marito è morto. Ti ho seguita perché ti amavo, perché ho avuto pietà di te, perché ti credevo diversa. Mai avrei pensato che ti saresti rivoltata contro di me come una serpe. Ma ti rendi conto di quanto vai dicendo? Per colpa tua sono qui da otto mesi, per colpa tua non ho più visto mia figlia. E dire che io non c'entro, sono innocente. Franca Ballerini risponde così in uno dei confronti che chiudono la fase istruttoria. Ed è evidente che la passione sia finita e che stia per iniziare una guerra tra le parti senza esclusioni di colpi. Già l'inizio dell'istruttoria prometteva, per modo di dire, molto bene. Ma andiamo con calma. Mentre gli inquirenti si trovano in Francia alla ricerca del cadavere di La Chioma, in Italia la posizione di Franca Ballerini diventa molto più fragile. Perché per prima cosa si conferma il fatto che la donna, subito dopo la scomparsa del marito, accompagna Paolo Pan in diverse avventure, come a Cannes e nel sud della Francia, oltre al noto fatto alla frontiera. E come seconda cosa c'è Tarcisio Pan, che in un colloquio di quattro ore con il sostituto procuratore Silvestro cerca di fare chiarezza. Se siano altre invenzioni oppure no, naturalmente non si sa, perché parliamo sempre di quello che viene definito un mitomane. In ogni caso il più piccolo di due fratelli inchioda Paolo e Franca Ballerini per il delitto Fulvio Magliacani. Paolo venne a svegliarmi alle tre di notte. Aveva un problema urgente, aveva ucciso uno. Salimo su una 125, io non volevo aiutarlo, c'era un morto di mezzo. Ma lui mi disse che avrebbe aiutato me e le nostre sorelle, che aveva molti soldi, che ci avrebbe aperto un negozio. Arrivammo in via Servais, il cadavere del rappresentante era avvolto in una coperta in un angolo buio. Lo caricammo in auto. Tremavo, avevo sempre più paura. Ma Paolo continuò a parlarmi del mio futuro di come avrei potuto sistemarmi con la mia amica e condurre finalmente una vita normale. Me ne parlò finché non arrivammo in via Lanzo dove aveva un alloggetto. Rimanemmo lì fino a sera, lui disse che avrebbe chiamato Germano la chioma se fosse stato a Torino. E li studiamo un piano. Prendemmo in considerazione quella zona perché ci andavamo da ragazzi a fare il bagno. Ricordavamo che era dalle parti di Val della Torre o Fiano. Poi mi accompagnò a casa e mi suggerì di farmi vedere al solito bar che frequentavo e se ne andò a comprare gli attrezzi per scavare la fossa. Facemmo alcuni sopralluoghi sul posto. Poi il 21 giugno alle 9 di sera andammo a scavare la fossa. Una fatica terribile, avevamo solo una piccola torcia elettrica per paura di essere notati. E poi Paolo mi lasciò lì fino a notte fonda da solo. Tornò a notte fonda con la 125 e il cadavere. E lo seppellimmo. Lui bruciò qualcosa vicino al corpo. Poi mi accompagnò a casa dicendomi che non era successo niente e che non dovevo ricordarmi niente. In qualunque momento sono pronto a un confronto con lui. Mi sono sempre tormentato dopo quella notte. E per questo che ubriaco e con molti rimorsi mi sono confidato spesso con Paolo Rossini, una persona che credevo amica ma che invece registrava le nostre conversazioni intime. Sembra più che altro un tentativo di scamparla con tre anni per occultamento di cadavere, più che un'attendibile confessione. E come detto, pare proprio che la donna al 20 giugno fosse al Sestrier e non a casa in compagnia dell'amante. Ma è sicuramente un passo avanti, visto che il fratello continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere, che Franca Ballerini, a parte ammettere che la storia con Paolo Pan andava avanti ancora prima della morte del marito, si chiude dietro un muro di pianto e alle richieste di rivedere la figlia. Ma non è tutto. Un altro colpo a Franca e Paolo lo dà Marisa Bruno, di 29 anni, compagna di Tarcisio, che dichiara alla polizia che la donna diede le chiavi di casa sua per uccidere il marito. Tarcisio nell'estate del 1972 mi confidò che suo fratello, Paolo, aveva ucciso Fulvio Magliacani, d'accordo con Franca Ballerini, sua amante. Mi disse che la donna era partita per il Sestriare il 20 giugno per crearsi un alibi, che Paolo aveva avuto da lei le chiavi dell'appartamento e vi si era nascosto in attesa del rappresentante. Quando è tornato a casa per dormire, lo ha accoltellato. Poi è andato da Tarcisio a chiedergli di aiutarlo col cadavere. Messo alle strette e accusato di un duplice omicidio, finalmente Paolo Pan si decide a parlare nel novembre del 1973. Lo fa, però, con il suo avvocato Foti, che si dice sicuro che l'uomo sia innocente. Con il suo difensore si lascia andare numerose confidenze che lo fanno passare per un innocente e ribaltano tutto quello che è emerso fino ad ora. La nostra è sempre stata una famiglia normale come tante. Fino alla morte di mio padre. Avevamo un bar in via da un bosco, dava da mangiare a tutti. L'abbiamo tenuto ancora per due anni, ma senza mio padre ha cominciato ad andare in rovina. Ho dovuto cercarmi un mestiere, rappresentante di una ditta di gelati. Ci assillavano con la necessità di dover fare a tutti i costi una buona produzione. Poi sono passato a una rappresentanza di macchine di caffè. Ho però capito che si sgobbava come muli per quattro soldi. E' a questo punto che ho incominciato ad interessarmi del traffico d'auto. Sui giornali si leggeva che c'era un giro di soldi facili, che si guadagnavano milioni a palate. Non è vero, per me si trattava di un'auto al giorno con costi altissimi. Era un piccolo commercio. Si trattava solo di rifornire Giovanni la chioma. Anche lui non faceva poi le cose tanto in grande. Vero che sono stato negli Stati Uniti ma come turista, non commerciante di auto. Ero disgustato da tutto quest'affare. Ad un certo punto ho lasciato perdere tutto. La prova? Mi ero trovato un impiego con una società danese. Dovevo piazzare balletti e ballerine ai locali notturni. Franca invece era una qualsiasi. Ogni tanto ci trovavamo per caso. Due mesi fa si era fidanzata ufficialmente con un altro, un odonto tecnico di Chieri. La nostra relazione era tutta qui. Lei poi era una scomoda, sempre pronta a crearti fastidi, costosa. Non ho ucciso Fulvio Magliacani, non ho sparato a Giovanni la chioma. La notte tra il 20 e 21 giugno sono stato chiamato da Franca per telefono verso le 3. Nell'appartamento di Via Servais mi sono trovato di fronte il cadavere di Fulvio Magliacani trivellato di coltellate. Lei mi ha scongiurato di salvarla facendolo sparire e io ho accettato per pietà e per amore. Ho chiesto a mio fratello Tarcissio di darmi una mano. E a lei ho consigliato di andare via per farsi un alibi. Ed ecco la difesa del maggior indiziato. Cercare di farsi passare per innocente introducendo un terzo uomo nella storia con Franca Ballerini che potrebbe aver scatenato la rabbia del marito e quindi l'omicidio da parte della donna. Definisce anche come scempiaggini le parole del fratello e quindi è evidente che non c'è nessun grande amore, dunque, o almeno non c'è nessun grande amore da salvare o parentele e amicizie se si rischia l'ergastolo. Ed ecco il tutti contro tutti per evitare la massima pena. La prima a reagire è ovviamente Franca Ballerini. Questo è troppo. Si è tentato di farmi apparire come un essere diabolico. Ciò che dice Paolo è intollerabile. Falso dalla prima all'ultima parola. Sono le ultime battute dell'istruttoria, i primi scontri verbali tra le parti, come ho detto, a inizio puntata. Diversi mesi dopo, nell'ottobre del 1974, il dottor Enzo Silvestro, sostituto procuratore, deposita la requisitoria. Non ci sono sorprese, ci sono però i ringraziamenti agli inquirenti e parole di conforto per la famiglia Magliacani. Ma a parte questo, per Silvestro, Tarcisio e Paolo Pan sono i responsabili dell'uccisione di Fulvio Magliacani, con la complicità della moglie Franca Ballerini. E sempre i due fratelli sono anche gli autori del delitto di Giovanni Lacchioma. Gli avvocati difensori però chiedono ulteriori approfondimenti e il giudice istruttore Maddalena accoglie le istanze e dispone una perizia psichiatrica per i tre imputati e anche la possibilità di portare nuovi elementi. Viene anche concessa l'estradizione dalla Francia di Germano Lacchioma, che arriva in Italia nel giugno del 1975 con il ruolo di teste chiave e tra l'altro lui non cambia di una virgola la sua versione dei fatti. Il 12 agosto del 1975 i fratelli Pan Franca Ballerini e Germano Lacchioma vengono rinviati a giudizio per omicidio volontario delle due vittime. Rischiano, tutti quanti, l'ergastolo. E così finisce la terza puntata. Nella prossima inizia il processo. Se ti è piaciuto questo podcast, metti mi piace sulla pagina Facebook Torino Nera Grazie a tutti. Grazie a tutti.